ragazzi il potere mistico di mattia de sciglio cioè il potere mistico di md2 c'è questo cross e succedono e succede il finimondo cioè con la roma crossa e bentancur non facendo la posta suppongo schiaccia la palla sulla testa di ken e la palla entra adesso crossa kuluseski la spizza di testa che di ragazzi io non ho mai visto un gol entrare spizzandolo così di testa nel senso non è che l'ha schiacciata la propria presa liscia e la palla palo gol cioè quando crossa mattia de sciglio succedono cose mistiche vabbè secondo assist nel senso la lega non gli ha considerato assist quello scorso però ragazzi vabbè vabbè allora partito un po posso dire nuogliosetta sì nuogliosetta perché diciamo che abbiamo trovato una squadra che era brava a difendersi loro dietro erano molto molto bravi devo dire e quindi niente bravi e questo ciò vabbè dai arriva il gol praticamente ci sono pochi tiri sia da una parte intanto mi arrivano una valanga di notifiche ci sono stati pochi tiri sia da una parte che dall'altra e niente alla fine l'abbiamo spuntata noi a pochi minuti dall'inizio c'è stata una grande parata di scesni all'inizio pensavo avesse sbagliato no perché gli ho visto fare un movimento strano in realtà poi ho visto che lui non aveva tre tre giocatori nella sua traiettoria e perciò l'ha vista sbuccare all'ultimo ed è stato preso in controtempo è per quello che ha fatto quel movimento strano per pararla poi vabbè ci sono c'è stato un altro tiro in porta dello zenith ma chesni la presa tranquillamente non era tanto forte per il resto noi abbiamo avuto un'occasione con mckenny c'è la più grossa sprecata io penso sia stata quella di mckenny che la presa di testa e l'ha indirizzata malissimo c'è aveva tutto il tempo per coordinarsi bene la l'ha indirizzata fuori c'è vabbè poi un'altra con mckenny ne abbiamo avute due grandi con mckenny allora vabbè la prima è sta ok la prima è stata praticamente si è trovato da solo davanti al portiere non mi ricordo chi gli ha dato quel pallone sebentancur era stato uno dei centrocampisti mi sa uno o morata no 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 era stato morata morata con mckenny che si muoveva nella linea del fuorigioco l'ha servito un pallone al bacio poi però il portiere ha chiuso la traiettoria e vabbè gliela ha tirato addosso quelle due lì sono le azioni che mi ricordo ah no quando è entrato arthur ha fatto una specie di cucchiaio ad andare a cercare quadrado lì era una bella occasione però quadrado non è riuscito bene a indirizzare al volo c'era difficile nulla il centrocampo oggi non mi è tanto piaciuto bentancur ha fatto venti cose buone e venti cattive quindi è tornato ad essere solito bentancur c'è il solito di quest'anno no quello dell'anno scorso che faceva 100 cose cattive una buona forse locatelli non l'ho visto tanto bene oggi sbagliava tanti passaggi ogni tanto aveva troppa fretta e perdeva palla quindi non l'ho visto tanto bene in generale il centrocampo non l'ho visto bene mckenny diciamo che ha corso tanto ma a volte correva a vuoto vabbè chiesa ha avuto molte più occasioni di dell'altro giorno con la roma l'ho visto meglio c'è anche da dire che gli sono stati dati più palloni rispetto alla partita con la roma e nulla meglio guardate io sono contenta è vero che c'era il record la che poteva raggiungere però io sono contenta che non abbia segnato neanche oggi perché così sapete sono già due partite no roma zenith così arriva con l'inter che è bello cattivo lo voglio cattivo chiesa contro l'inter vedete adesso basta notifiche porca miseria vabbè adesso vedrete ragazzi non segna da due partite di queste due partite sono state importanti non ha segni non ha segnato e non ha brillato in nessuna delle due con l'inter fa doppietta ragazzi ve lo dico perché chiesa ha fatto così quando ha un periodo di una o due partite storte dopo ti torna col botto non dura più di due partite di solito il suo periodo storto c'è chiesa abbastanza continuo quindi può fare bene ma male al massimo due partite poi torna a fare bene di solito parte questo morata tanto lavoro sporco è mancato tanto davanti ovviamente come sempre cioè nel senso facendo sacrificandosi tanto dietro e a centrocampo per provare a far salire i compagni poi ha patito un po davanti era stranamente sempre in gioco non era mai fuori gioco beh parte gli scherzi bernardowski ha fatto bene bernardowski ha fatto bene infatti mi sono sorpresa che l'abbia tirato fuori sono onesta ma anche se poi la scelta è stata la scelta è stata azzeccata perché ha segnato culuseschi che è entrato al suo posto quindi vabbè alexandro l'ho visto benino ad un certo punto è stato sostituito è entrato quadrado non mi è piaciuto per niente devo essere onesta ragazzi non quadrado non mi è piaciuto avrà di un po anche lui un periodo di calo ci sta le gioca le gioca sempre tutte anche lui quindi ci sta che sia un po in calo si riprenderà anche lui secondo me c'è in buona partita delict partita suntuosa non ha fatto passare niente a parte una volta che si è fatto fatto fare mezzo tunnel e saltare per il resto ok anche bonucci ha sbagliato una o due cose bonucci però anche lui niente di grave fatemi pensare ho saltato qualcuno vabbè poi è entrato arthur c'è ha fatto due tre cose buone ne ha fatta una anche un po così così il giallo che ha preso poi non lo so secondo voi era giallo cioè io non ho neanche visto il fallo devo essere onesta vabbè e nulla mi sembra siano finiti ma è sempre fino alla fine forza juve ragazzi se qualcuno a e santino di mattia de ciglio vi prego mandatevelo così magari mi porta un po di fortuna nella vita